Un Padre Nostro recitato insieme si è conclusa così in Vaticano l'udienza del Papa all'Arcivescovo di Canterbury-Welby e ai primati delle province anglicane. Nel suo discorso il Pontefice ha parlato dei frutti dell'albero piantato 50 anni fa da Paolo VI e dall'Arcivescovo Ramsey, come la nascita del centro anglicano a Roma, ma anche l'inizio del dialogo teologico. Su tre parole, preghiera, testimonianza e missione, il Papa è invitato a riflettere. Non stanchiamoci di chiedere insieme insistentemente al Signore evidenziato il dono dell'unità. L'ecumenismo ha aggiunto, non è mai un impoverimento ma una ricchezza. Sentiamoci ogni giorno chiamati a donare al mondo la testimonianza dell'amore e dell'unità tra noi. Infine l'invito a uscire da se stessi, dai propri ambienti, per portare l'amore misericordioso del Padre nel mondo. Nella sua intervento l'Arcivescovo Welby ha ricordato l'impegno di Francesco vicino ai poveri e ai sofferenti ed ha esortato sia i cattolici che gli anglicani ad essere coraggiosi per camminare insieme, sempre più vicini. Grazie. 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 Grazie.